Cos'hanno in comune Jimi Hendrix, James Dean, Marilyn Monroe, che sono stati dei miti morti giovanissimi? Ebbene, qui ne abbiamo un altro, di Michele Martino, Bruce Lee, l'avventura del piccolo drago. Ebbene, Bruce Lee, a 50 anni dalla morte, proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della sua morte, è stato un mito, è anche lui morto giovanissimo, pensate a 32 anni. Ebbene, il mondo lo rimpiange ancora, soprattutto chi è esperto di arti marziali e chi è semplicemente un allievo. Un mito davvero da perpetrare e ancora ricordare. Alza il volume! Un mito davvero da perpetrare e ancora ricordare.